Ciao a tutti e bentornati alla BCFootball. Oggi parliamo di una cosa molto importante, parliamo del primo giro del draft e delle mie opinioni. Diamo un voto e vediamo un po' quali squadre hanno fatto bene, quali squadre non hanno fatto bene. Se non avete potuto seguire il draft vi invito ad andare a vedere la live che abbiamo fatto per la prima sera del draft, la sera di cui parliamo con questo video, è stato un draft assurdo e adesso vi dirò qualche statistica. Il miglior draft a cui io abbia partecipato sicuramente ci siamo divertiti tantissimo, vi invito ad andare a vedere la live perché è stata davvero molto divertente. Qualche statistica per parlare di quanto davvero si è stato fuori dal mondo questo draft perché per chi lo segue il primo anno, per la prima volta, magari non può sembrare un draft normale e in realtà non è così. Pensate che 10 squadre delle 32 che ci sono in NFL non hanno avuto una scelta al primo round, che è il numero più alto di squadre che non scelgono al primo round da quando c'è il draft, quindi si tratta di un evento assolutamente raro. Ci sono stati 9 trade, non accadeva dal 2004, il numero più alto dal 2004, 6 wide receiver sono stati draftati, top 20, c'è stata una corsa assurda come vedremo, che anche lì il numero più alto di wide receiver preso nella top 20 dall'inizio del draft come concetto e infine la Georgia ha battuto un record come più giocatori difensivi draftati e si tratta di 5 giocatori al primo round. Quindi queste sono tutte statistiche davvero importanti, davvero assurde. È stato un draft emozionantissimo. Quindi iniziamo a parlare delle scelte. con la prima scelta assoluta i Jacksonville Jaguars hanno preso Trevor Walker, un defensive end dalla Georgia. Ora in questo video io non mi dilungherò troppo sulle scelte, mi concerterò di più sul fit con le squadre. Poi se volete vedere magari qualcosa di più nel dettaglio farò i video alla fine di tutti i round del draft squadra per squadra. Quindi, prima scelta Trevor Walker. Il voto che do a Trevor Walker, sfortunatamente, a questa scelta è una D. Darò voti dalla F fino alla A, cercando di essere il più imparziale possibile. Trevor Walker secondo me è un ottimo talento, ha fatto una grandissima combine. Il problema è che secondo me nella Georgia è stato usato in modo davvero molto preciso, quindi con uno schema molto preciso. Ha giocato davvero molto bene nella run defense e capisco che questo sia molto importante per i Jaguars che ricordiamo giocano contro Derrick Henry due volte all'anno, giocano contro Jonathan Taylor due volte all'anno. Quindi la run defense, la difesa contro la Corsa è molto importante. Però è stato utilizzato davvero poco per il pass rush, deve crescere in quel reparto e sicuramente è il giocatore che ha il potenziale per poter crescere. Il mio dubbio è se i Jaguars sono il tipo di organizzazione che è in grado di far crescere questo tipo di talento ed è per questo che ho dato una D. Secondo me potevano prendere un giocatore un pochino più sicuro. E così andiamo alla seconda scelta. I Lions hanno preso Aidan Hutchinson che secondo me era il miglior giocatore in questo draft. Voto sicuramente un A è un defensive end estremamente talentuoso, è veloce, atletico, la tecnica è giusta, intelligente, l'intuito, il football IQ. Cioè secondo me è prontissimo oltre ad essere anche un tipo di giocatore che da un punto di vista caratteriale è molto maturo e tutte le persone che lo incontrano lo adorano. Infatti secondo me sarà un match perfetto per lui che tra l'altro è di quell'area con i Lions. Secondo me farà davvero bene lì. Speriamo che aiuti i Lions a migliorare. Sono una franchigia che non ha avuto grande fortuna in passato. Con la terza scelta assoluta i Texans hanno preso Derek Stingley Jr. E qui arriviamo già alle sorprese perché tutti ci aspettavamo che questi cornerback andassero presto perché Derek Stingley è un ottimo talento. Terzo assoluto non si pensava. E invece è stato preso. Sicuramente è stata un'ottima scelta da parte dei Texans. Do anche a questa scelta. Concedetemelo. Do diverse A in questo draft ma perché secondo me molte squadre si sono mosse molto bene. Qui sicuramente i Texans aggressivi sono andati per Stingley perché volevano Stingley. Molte persone ritenevano che lui non fosse il miglior cornerback di questo draft perché il suo anno migliore è stato quando LSU ha vinto il National Championship. Ormai sono passati due anni. Al tempo ha dimostrato davvero di essere un cornerback a livello elite. Dopodiché è stato sempre un cornerback molto solido, molto buono ma mai a quel livello lì. Però va anche detto che la squadra che c'era a LSU quell'anno non c'è più stata. Quindi lui non ha avuto il supporto che ha avuto gli altri anni. Poi che aveva avuto quell'anno. Poi si è fatto male, infortunio a Caviglia da qualche incognita. Però secondo me è un ottimo atleta. L'avevo dato come mio cornerback preferito quindi secondo me farà molto bene ai Texans. Quando viene preso un giocatore succede sempre che c'è una corsa a quel ruolo lì. Specialmente in questo caso perché un giocatore è preso più in alto di quello che ci si aspettava. Quindi i Jets hanno preso Ahmad, Sos, Gardner con la 4. Che dire, Gardner ha un potenziale incredibile per molti giocatori sarebbe stato, per molte persone sarebbe stato il primo giocatore preso. Molti lo davano alla 1. Forse era un po' eccessivo però era una cosa che si vedeva sicuramente. Primo cornerback per molte persone. I Jets avevano bisogno di un cornerback ed è il giusto tipo di cornerback per l'head coach Sala. È un giocatore molto lungo quindi con arti lunghi. È perfetto per giocare in pressman quindi una copertura a uomo molto aggressiva e questo è proprio il tipo di sistema in cui Gardner è al meglio ed è il tipo di sistema che va bene per i Jets. Quindi come fit è davvero perfetto. Ovviamente abbiamo tutti sentito della statistica che non ha mai concesso un touchdown nella sua carriera. Giocando in questa divisione sicuramente c'è bisogno di un cornerback molto forte. Vi ricordo che giochiamo contro, che i Jets giocano contro i Bills due volte all'anno. Quindi stiamo parlando di un certo livello di quarterback e wide receiver. Giocano contro i Dolphins che hanno preso Tyreek Hill. Quindi sicuramente fondamentale avere un secondario all'altezza. Con la quinta scelta i Giants hanno preso Kayvon Thibodeau, Edge dall'Oregon. Thibodeau ha avuto qualche problema, è sceso al draft perché si ritiene che non sia un giocatore serio, che sia un giocatore che non mette il football davanti al resto, che sia il tipo di giocatore che magari... quel tipo di giocatore diciamo che dà problemi. Il tipo di giocatore per esempio, dico spero di no, ma che in off-season e capita spesso in NFL, si fa arrestare perché fa qualcosa di stupido. E magari viene sospeso per 3, 4, 5 partite in NFL. Quel tipo di giocatore. Quindi questo tipo di giocatore non piace alle squadre. La mancanza di maturità. Però questo non toglie che sia un giocatore assurdo, un atleta estremamente versatile. Un tipo di atletismo che si vede nel gioco. Quindi sicuramente un grandissimo valore per Thibodeau alla 5. Secondo me i Giants avevano bisogno di un Edge. Hanno fatto bene a prenderlo. Con la 6 i Panthers si pensava che sarebbero andati per un quarterback. Per fortuna non l'hanno fatto e hanno preso Ikem e Cuonu. Offensive tackle dalla NC State. Mi piace il fit. Do un B come voto ai Carolina Panthers per due ragioni. Allora, prima di tutto, ottima scelta perché Cuonu ha un grandissimo potenziale. In live c'era un tifoso Panthers, l'Almarco del Football, se lo conoscete, e lui voleva. E Cuonu era molto contento di averlo preso. E Cuonu è fortissimo nel run blocking, quindi nel riuscire a creare buchi per i running back. Sappiamo che il miglior running back della Lega, a mio parere, Christian McCaffrey è ai Panthers, quindi sicuramente vale tanto avere Cuonu. E Cuonu è un tipo di giocatore che ha tantissimo potenziale, quindi lo possiamo vedere essere davvero un tackle dominante nella sua carriera in NFL. Però non è prontissimo, deve migliorare la tecnica nella pass protection e già non hai un quarterback particolarmente buono. se ci mettiamo di fianco il fatto che Alchemy Cuonu non è pronto come lo era Evan Neal, non mi piace tantissimo il fit come potrebbe essere quello con Evan Neal. Quindi io metto un B semplicemente perché secondo me non era il miglior tackle disponibile. Alla 7 i Giants prendono Evan Neal giustamente e questo è una A perché i Giants avevano disperatamente bisogno di linea e sono contenta che abbiamo preso un tackle e Evan Neal miglior tackle di questa classe, quindi perfetto, perfetto come scelta. Alla 8 i Falcons prendono Drake London e a questa ho dato una C. Per due ragioni. C'era sicuramente bisogno di un wide receiver ai Falcons, però il fit non mi piace tantissimo perché Drake London è sì opposto a Corda del Patterson come tipo di giocatore, quindi ci sta il cambiamento, avere due wide receiver completamente diversi. Il problema è che è davvero simile secondo me a Kyle Pitts che hanno preso l'anno scorso, quindi secondo me era meglio prendere Garrett Wilson che era il migliore wide receiver che era ovviamente ancora disponibile, quindi secondo me Drake London non meritava di essere il miglior, il primo wide receiver preso. Tra l'altro Drake London per come lui secondo me ha bisogno di un buon quarterback, un quarterback molto preciso e secondo me questo non ce l'ha in Marcus Mariota. Va detto che Mariota non è il quarterback del futuro. Hanno draftato oggi al secondo, al terzo round il quarterback del futuro, però con il fatto che qui parliamo di un altro round non ne parliamo, comunque rimane il fatto che secondo me il fit non è perfetto e per questo do una C. Pick numero 9, i Seahawks hanno preso Charles Cross, offensitacco dal Mississippi State. Mi piace molto, voto A a questa scelta perché Charles Cross secondo me alla 9 ci sta benissimo come momento in cui viene preso, io nel mio mock draft personale lo avevo che andava prima, quindi figuratevi, e tra l'altro il bisogno dei Seahawks c'è, i Seahawks non hanno mai un offensive line che funziona davvero e quindi il bisogno di prendere un nuovo offensive tackle c'era e serviva, hanno Drew Lock come quarterback che sicuramente aveva bisogno di protezione. Con la 10, i Jets hanno preso Garrett Wilson, scelta perfetta, i Jets avevano bisogno di un giocatore, hanno preso il miglior wide receiver, hanno preso il miglior wide receiver che c'era in questo draft, mi piace come sarà con i Jets, mi piace come fit con Zach Wilson, quindi voto A per questa. Numero 11, trade. Washington lascia la sua scelta ai Saints che fanno trade up perché è? Perché adesso c'è la corsa ai wide receiver, sono andati già due wide receiver e va il terzo, Chris Olave. Chris Olave era il mio personale wide receiver preferito perché secondo me ha un talento davvero difficile da eguagliare. Secondo me non era il migliore oggettivamente perché siccome Garrett Wilson è più adatto all'NFL, però Chris Olave ha una capacità di correre di route running, una tecnica perfetta e fluidissimo, sembra nato sul campo, quindi mi piace come si unisce Michael Thomas ai Saints e secondo me è stata una bellissima scelta. Con i 12, trade. I Lions aggressivi salgono per prendere Jameson Williams, wide receiver d'Alabama. Anche questo bellissimo fit perché Jameson Williams arrivano in fortunio e i Lions vogliono il wide receiver del futuro, non vogliono vincere subito, quindi Jameson Williams avrà il tempo per crescere. I Lions avevano bisogno di un wide receiver disperatamente, l'hanno preso ed è stata un'ottima mossa. Alla 13, trade ancora. Gli Eagles prendono Jordan Davis, defensive tackle dalla Georgia. Anche questo è un fit perfetto, gli Eagles hanno fatto un draft assurdo, quindi il motivo è che Fletcher Cox è tornato, sì, ma con un contatto di un anno, Javon Hargrave sta invecchiando, credo che abbia intorno ai 30 anni, non è il miglior run defender, quindi sicuramente abbiamo bisogno di un upgrade in quella posizione Jordan Davis, il loro defensive tackle del futuro. Perfetta scelta. Potrebbe diventare anche un ostacolo, volendo. Comunque, andiamo avanti, scelta numero 14, i Ravens prendono Kyle Hamilton, safety da Notre Dame. Molti pensavano che Kyle Hamilton sarebbe andato nella top 10, io nel mio mock draft personale l'avevo alla 11, è sceso fino a 14, non mi piace tantissimo il fit con i Ravens, do B, perché è un ottimo giocatore, capisco che l'abbiamo preso semplicemente per il suo talento, però non è un safety estremamente fisico e i Ravens prediligono nel loro sistema giocatori molto fisici, giocatori aggressivi, mentre Kyle Hamilton ha problemi in main coverage, ha problemi per quanto riguarda la forza, a volte subisce, quindi è il tipo di giocatore che usa molto il suo corpo, la sua lunghezza, la sua velocità, il suo istinto, la sua capacità di leggere, il quarterback avversario, e quindi mi sembra un tipo di giocatore un po' diverso, però sicuramente come talento è stata una buona scelta secondo me. Alla 15 i Texans prendono Kenyon Green, una guardia da Texas A&M, e do una B anche a questa scelta, perché i Texans avevano bisogno di aggiungere talento all'interno dell'offensive line, quindi ci sta, forse poteva scendere ancora di più, però pazienza, ci sta alla 15 Kenyon Green, l'hanno preso con il trade down, quindi va bene, va bene, è un B perché potevano prenderlo più in basso, però ci sta, sicuramente è un giocatore versatile, è meglio metterlo come left guard, però volendo si può muovere, si può mettere anche a centro, ma non credo che questo sarà. È un buon giocatore, può entrare subito in campo secondo me, deve crescere un minimo come tecnica nella pass protection, quindi per proteggere Davis Mills, in questo caso, problema per cui è sceso, ha fatto male la Combine, non è per niente atletico, e in più ha problema di penalità, che andrà sicuramente messo a posto. Alla 16 i Washington Commanders prendono Jahan Dodson, wide receiver, corsa ai wide receiver ne abbiamo parlato, però qui devo dare una C, Jahan Dodson secondo me non merita la sedicesima scelta, i Commander secondo me avevano altri bisogni più impellenti, più importanti, capisco che un wide receiver era comunque necessario, però c'era Burks disponibile, che secondo me è un giocatore migliore di Jahan Dodson, quindi a me questa scelta non è piaciuta molto. Alla 17 i Los Angeles Chargers prendono Zion Johnson, guard, e questo mi è piaciuto molto. Zion Johnson non era magari il mio offensive lineman preferito di questo draft, ma i Chargers avevano disperatamente bisogno di mettere qualcuno nella parte destra della loro linea, bisogna proteggere il quarterback Justin Herbert, e Zion Johnson alla fine è buono nella pass protection, le braccia ce le ha molto lunghe, quindi ha anche un buon potenziale per crescere, è buono nel creare buchi per la corsa, ha un buon intuito per muoversi rispetto alla difesa, quindi secondo me Zion Johnson è un'ottima scelta alla 17esima per i Chargers. 18esima scelta, Trade. Trade, AJ Brown viene mandato dai Titans fino a Philadelphia, quindi adesso Philadelphia ha AJ Brown e Devonta Smith, quindi grandissimo duo di ricevitori, e i Titans prendono Traylon Burks, wide receiver dall'Arkansas. Molte persone non hanno apprezzato questa scelta, è vero che i Titans avevano bisogno di altro, tra cui un bisogno di offensive line, perché Tannehill è stato davvero molto sotto pressione l'anno scorso, però i migliori guard erano andati ormai, Kenyon Green, Zion Johnson erano andati, quindi avevano bisogno di un wide receiver e a me la scelta piace. Do una B, anche perché Traylon Burks è talmente simile a AJ Brown come stile che non poteva andare meglio, secondo me, come scelta di wide receiver. Io l'avevo come secondo, secondo credo, wide receiver di questa classe, forse terzo e a me piace tanto, secondo me farà molto bene ai Titans. Quindi, andiamo avanti, con la scelta 19 i Saints hanno preso Trevor, Penning e ho sentito tante persone lamentarsi di questa scelta. Si sapeva che i Saints avevano bisogno di un offensive tackle e si sapeva che volevano Penning, cioè si sapeva che era uno dei giocatori che volevano, che si aspettavano che scendesse fino a loro e quindi, ok, Trevor Penning non è prontissimo, deve migliorare come tecnica per proteggere il quarterback, però i Saints sono bravi nel far crescere gli offensive linemen, quindi secondo me questa è una buona scelta ed ho una A. Gli Steelers prendono l'unico quarterback che è andato al primo giro, prendono Kenny Pickett. Ho dato una B, semplicemente perché quando mi immaginavo il quarterback perfetto per gli Steelers non mi immaginavo Kenny Pickett, però non mi immaginavo che Kenny Pickett fosse disponibile alla 20 e quindi capisco che abbiano preso Kenny Pickett perché è quello più pronto per entrare in campo, è davvero molto intelligente. Rimango però dell'idea che secondo me il problema maggiore è il fatto che è un quarterback con delle mani molto piccole, che deve usare i guanti e io ho paura all'idea di un quarterback con questo tipo di handicap in NFL. Secondo me non è ideale, non è assolutamente ideale e ci sono molti rischi relativi a questo, però per il resto è intelligente, è il più affidabile tra i quarterback che c'era in questo draft, infatti sono scesi tutti gli altri lui compreso. Ci sta la scelta di Pittsburgh. Ventunesima trade e i Chiefs hanno preso Trent McDuffie, cornerback da Washington. Ho dato una B perché il bisogno della difesa era davvero molto importante nei Chiefs. Hanno fatto trade up per Trent McDuffie e secondo me non sarebbe sceso fino a loro, dovevano fare trade up necessariamente. Trent McDuffie non è il miglior cornerback naturalmente, è un pochino piccolo e non è ideale da mettere all'esterno, è più uno slot corner perché subisce un po' nel contatto e quindi ha un buon istinto, va bene all'interno e questo è il tipo di schema che va bene per Trent McDuffie. Alla ventiduesima Green Bay Packers, i Green Bay Packers hanno preso Quei Walker, scelta che onestamente a me non piace, ho dato una D, ho dato una D però va detto che la difesa dei Packers l'anno scorso a me è piaciuta davvero tantissimo, quindi voglio dare un minimo di fiducia al loro defensive coordinator, se lui vuole Quei Walker vuol dire che Quei Walker è il giocatore giusto per loro. A me piace quello che i Packers stanno facendo con la difesa quindi secondo me ci può essere un grande valore in questo, solo che io al momento non lo vedo perché siccome Quei Walker non è un giocatore da primo giro, lo potevano prendere dal secondo e tra l'altro hanno preso un linebacker e non avevano un grande bisogno di linebacker secondo me, secondo me l'hanno preso perché vogliono migliorare il pass rush, fare pressione alle squadre avversarie e su questo sicuramente Quei Walker è buono, lo puoi mettere in blitz, però non è il tipo di linebacker che ti può andare in copertura e quindi non mi fa impazzire sicuramente. È buono, è buono per la run defense sicuramente siamo contro i Vikings in questa divisione e quindi fermare Dalvin Cook è fondamentale, però secondo me troppo in alto, troppo in alto. Alla ventitresima trade, i B's prendono Cair e Lam, cornerback da Florida. Ci sta questa scelta, do una B perché forse è un pochino in alto, sì, per Cair e Lam, però c'è stata talmente tanto una corsa ai cornerback che i B's hanno dovuto fare trade up per prenderlo perché altrimenti non sarebbe sceso. Comunque è un buon cornerback, è forte, dominante, gioca in modo molto fisico, molto aggressivo e va bene per delle squadre che giocano con una copertura a uomo molto pesante, quindi che utilizzano molto il pressman e su questo ci siamo. A volte si perde un po', secondo me manca un po' di intuito, un po' di football IQ, spero che riescano a insegnarglielo sicuramente. Pick 24, i Dallas Cowboys prendono Tyler Smith. La scelta non mi è piaciuta molto, secondo me, lo so che Tyler Smith in molti mock draft era dato al primo giro, ma secondo me non ha un talento al primo giro. I Cowboys avevano bisogno di guardia e quindi l'hanno preso, non è un talento al primo giro, secondo me. Non è pronto, deve migliorare la tecnica, non è per niente raffinato, però ha un buon potenziale, è molto aggressivo, quindi capisco forse a lungo termine cosa i Cowboys vogliono fare, però non mi è piaciuta tantissimo. Bene, andiamo avanti alla venticinquesima, trade. Marquise Brown va a Arizona e quindi i Ravens perdono un wide receiver e prendono un centro. Tyler Linderbaum, onestamente, essendo che io gioco contro i Ravens, mi dispiace tanto che abbiano preso Linderbaum perché è un ottimo giocatore e secondo me avrà un grande impatto nei Ravens. Si sa che i Ravens hanno bisogno di un ottimo offensive line, come qualunque squadra, ma i Ravens in particolare. Tyler Linderbaum è un ottimo giocatore e certo, sicuramente come taglia non è ideale come centro, ma è talmente intelligente, la tecnica è perfetta, secondo me avrà una grandissima carriera in NFL e i Ravens hanno fatto bene a fare trade up per lui. Non sarebbe sceso, non sarebbe sceso oltre ai Bengals, diciamocelo onestamente. Alla ventiseiesima, trade, ancora. I Jets prendono Jermaine Johnson, defensive end da Florida State. Molte persone lo davano Jermaine Johnson a top 10 negli ultimi mock draft, però secondo me questo è il momento giusto per prenderlo. 26 ci sta per Jermaine Johnson. Ho dato una B, c'è un grande bisogno di edge di edge ai Jets. Jermaine Johnson ha fatto molto bene alla Senior Ball, è riuscito a riempire l'interno davvero molto bene. È un tipo di defensive end che si basa molto di più sulla potenza, sull'aggressività piuttosto che sull'agilità e questo secondo me lo rende un pochino meno affidabile. Fa delle partite molto buone come la Senior Ball, però in altre partite non gioca bene e si perde. Quindi Jermaine Johnson ci sta, ci sta a questo momento. Non era ovviamente il mio defensive end preferito. Alla ventiseiesima ci sta. 27 trade. I Jaguars salgono, prendono il posto dei Bucks per prendere Devin Lloyd. Devin Lloyd è un grandissimo talento. Secondo me è assurdo che sia sceso la ventisettesima. Stile enorme per i Jaguars. Una A piena. Valore assolutamente pazzesco. Devin Lloyd ha fatto delle ottime statistiche. È un mostro al college. È stato usato principalmente come pass rusher, ma è buono in copertura. Era un safety. Può fare il mic perché è intelligente. Più che altro non è dominante. Non è quel grosso giocatore dominante aggressivo, però è in grado di utilizzare il suo atletismo, la sua intelligenza per essere lo stesso dominante. Grandissimo giocatore. Mi piace tantissimo la scelta. Ventottesimo scelta. I Packers prendono Devin Lloyd e Wyatt. E anche qui, esattamente come con Quay Walker, i Packers secondo me vogliono migliorare il pass rush. Però questa scelta mi è piaciuta. Do una A ai Packers per questa perché ne avevano bisogno e hanno preso quello giusto. Devin Lloyd e Wyatt è agile abbastanza per il pass rush. È comunque buono nel run blocking. È istintivo, è aggressivo, è veloce e mi piace tanto. Secondo me farà molto bene. in Wisconsin. Andiamo avanti. Ventinovesima. I Patriots prendono Devin Cole, Strange. Una guardia da Chattanooga. E secondo me questa scelta non ci sta. Io avevo un valore da secondo, forse terzo giro su Strange. E secondo me questa è una scelta troppo in alto. Poi do una C perché comunque è un buon giocatore e se i Patriots lo volevano tanto vale prenderlo. Però secondo me non potevano fare ancora trade down allora per prenderlo. Avevano bisogno di un wide receiver e di un cornerback di più. È vero che queste posizioni sono state molto attaccate in questo draft, però secondo me c'erano bisogni più grandi. Comunque c'era il bisogno di una guardia. Cole Strange ha fatto molto bene alla Senior Ball. È versatile. Ha giocato in tutte le posizioni sull'offensive line. È molto bravo, molto buono nel run blocking. Ha buona esperienza. Ha fatto da titolare per cinque anni. Ha una buona tecnica. Ha fatto molto bene la combine. Davvero, davvero molto bene la combine. Cioè ha fatto una combine fuori da questo mondo praticamente. È un po' magro. Manca un po' di forza e questo sappiamo che è fondamentale per un offensive lineman. Ma siccome è un grande talento questo giocatore. Quindi una C. trentesima scelta. I Chiefs prendono George Karl Laftis. E voi sapete che a me Karl Laftis piace tanto. Sono sorpresa che sia sceso così tanto. E secondo me i Chiefs hanno preso un giocatore incredibile. Una A piena per Karl Laftis che è un rusher, un pass rusher poco convenzionale. Gioco in un modo tutto suo ma è talmente incisivo che riesce, nonostante non sia il legge più atletico che ci sia comunque a fare una... a essere estremamente dominante. Davvero molto aggressivo. Mi piace tanto. Mi ricordo un po' come stile Trey Hendrickson. Speriamo che faccia la stessa carriera. Trentunesima scelta. I Bengals prendono Duxton Hill Safety dal Michigan. Do una B a questa scelta perché secondo me i Bengals avevano altri bisogni da... a cui dare priorità. Però... però Duxton Hill è davvero un buon giocatore. Serviva aiuto nel defensive back come abbiamo visto al Super Bowl. Secondo me l'hanno preso perché piaceva il talento. Piaceva Duxton Hill come giocatore. Non per un gran bisogno perché avevano altri bisogni. L'hanno preso perché piaceva. E hanno fatto bene. Un ottimo giocatore nel pressman. Secondo me lo puoi mettere anche come slow corner. Quindi... o come strong safety. Quindi puoi giocare davvero da subito. Un ottimo giocatore. Buono nella run defense. Che... insomma diciamo... siamo i Bengals. Giochiamo contro i Browns. Giochiamo contro gli Steelers e i Ravens. Tre squadre che amano correre. Quindi la run defense è fondamentale. Ultima scelta. I Vikings prendono Lewis Sin. Safety da Georgia. Ho dato una B a questa scelta perché... secondo me poteva andare al secondo giro. Comunque ci sta perché comunque... doveva... se non fosse stato alla fine del primo sarebbe stato all'inizio del secondo. Quindi c'eravamo quasi al suo momento. Comunque hanno fatto trade down. E hanno preso Lewis Sin. Quindi secondo me ci sta. è un buon free safety. Non ha una grandissima esperienza col fatto che il front seven alla Georgia era così forte. Però... ha una buona mentalità. È veloce. È esplosivo. Ha dei problemi in copertura. Perché non anticipa. Però... i Vikings secondo me sono buoni nel far crescere il talento difensivo. Quindi secondo me possono fare molto con lui. E questo... questi sono stati i miei voti per i giocatori presi in questo primo giro del draft con un'analisi ovviamente di come rientrano in queste squadre. Vi ringrazio per aver visto il video. Ci vedremo tra qualche giorno quando inizierò a postare divisione per divisione un'analisi di tutto il draft di tutte le squadre. Quindi ci vedremo presto. Vi auguro una buona giornata, una buona serata. Un buon resto del draft.